oh eccoci eccoci buona serata cari amiche e cari amici ben ritrovati ancora insieme guardate che bello guardate che belle immagini ho voluto mettere in sottofondo guardate che belle immagini proprio come sono veramente belle e rilassanti so che magari può sembrare un attimino così un attimo discordante rispetto rispetto all'argomento trattato in questa live però tutto sommato servono a rendere probabilmente meno ansioso il racconto proprio di questa live perché parliamo di un argomento che per me è molto importante di cui ho parlato tante volte e che voglio continuare ad affrontare proprio per se volete anche per sensibilizzare insomma un po decidete voi sull'argomento in questione perché stiamo parlando di ansia e panico sono due argomenti sicuramente molto importanti molto particolari con cui in una maniera in un'altra più o meno tutti abbiamo avuto a che fare e verosimilmente questo non fa di noi delle persone deboli o delle persone in qualche maniera errate ma ci mancherebbe pure però è pure vero il fatto che parlarne io credo sia già un mezzo non solo per sensibilizzare non soltanto per raccontare meglio le problematiche ma anche per in qualche modo in qualche maniera far sentire meno solo chi passa nel mezzo del del problema che poi insomma problema lo diventa nelle conseguenze più estreme però in linea generale in linea di principio non possiamo parlare comunque di un problema anche perché di base ci dimentichiamo una cosa che è fondamentale intanto una buona serata tutti coloro che che si stanno sintonizzando e che stanno guardando perché soprattutto vi dicevo dimentichiamo una cosa che è fondamentale cioè il fatto che è d'accordo l'ansia è brutta e ti dà quelle quelle brutte quelle brutte sensazioni che ti fanno che ti fanno sentire oppresso che veramente ti danno sensazioni poco piacevoli è normale se no che cavolo di ansia è però di base non dobbiamo dimenticarci che l'ansia ancora prima di essere considerato un problema deve essere considerata per quello che è cioè l'ansia è un'emozione questa cosa è fondamentale da da non dimenticare è fondamentale sempre da ricordare da ricordarci nel senso che come tutte le emozioni possiamo serenamente riuscire un attimo a gestirla riuscire un attimino a a trattarla per tale e le emozioni sono quelle una persona prova un'emozione di gioia di rancore di rabbia di tristezza di allegria non è che tu guarisci dall'allegria guarisci dalla tristezza guarisci dalla rabbia cioè guarisci dalle malattie ma dalle malattie vere e proprie quindi spesso si si commette questo errore di considerare l'ansia parlo di ansia poi il panico diventa un un'accezione conseguente e già è lo step successivo e lo scalino successivo però diciamo viene considerata come una malattia di conseguenza se viene considerata come una malattia si tende a considerare le persone che hanno ansia che soffrono di ansia per qualsiasi loro motivo per carità perché non non è che per forza una persona deve deve avere l'ansia per per chissà cosa dico al netto di questo viene considerato un malato viene considerato una persona malata ma perché cioè perché considerare malata una persona non non c'è malattia non ti puoi considerare malato malato di cosa esattamente quindi ecco perché credo che in in linea generale in in linea di principio dobbiamo appunto un attimino così così rivedere ecco proprio la l'accezione l'accezione al termine perché malato sì ma di cosa cioè di che stiamo parlando ecco non c'è parliamo di un di un'emozione parliamo semplicemente di qualcosa che è che proviamo e che come tale appunto dal momento che la proviamo possiamo sicuramente modulare possiamo sicuramente osservare vedere più direttamente quindi dico secondo me un attimino ecco perché bisognerebbe rivedere il il concetto stesso perché non c'è non non possiamo considerarci malati non possiamo non possiamo considerare come se fossimo delle persone con con chissà quale malattia certo per carità è chiaro che stiamo parlando di qualcosa che fa male altrimenti non saremmo qui a commentarla non saremmo non saremmo qui a parlarne è logico che fa male è logico che non ti fa stare bene è logico il fatto che che ti fa soffrire però le soluzioni ci sono e di base e io questa cosa continuerò sempre a dirla sempre comunque buona serata intanto agli amici che si vanno sintonizzando continuerò sempre a dire il fatto che ammettere di star male ammettere di avere un problema quindi fare dei conti con se stessi significa già essere guariti per metà ragazzi guardate che io conosco tanta gente che sta male e preferisce rimanere così nel proprio dolore rimanere nella propria ansia ho conosciuto persone che hanno preferito continuare a croggiolarsi nell'ansia nel panico arrivando a non uscire più neanche dalla dalla propria stanza perché semplicemente per non ammettere di avere un problema è un peccato proprio per ma per la nostra vita stessa capite proprio per per rispetto anche anche verso noi stessi cioè non fosse altro che per questo proprio parlo di di rispetto verso noi stessi e probabilmente so che tutti abbiamo sentito quella sensazione un giorno di di sentirci strozzati di non riuscire a respirare di ragazzi è normale cioè ci sta è una cosa assolutamente che ci sta rientra nel nel vivere umano perché ripeto provare ansia quindi provare la quella paura diciamo che anticipa delle un qualcosa è normale rientra proprio nella nel vivere umano rientra nel vissuto umano guardate che belle scene guardate che meraviglia questo paesaggio azzurro stupendo bellissimo che bello mi fa venire voglia di estate mi ricorda le spiagge il sole mette davvero un grande relax questo questo video che tra l'altro sto riproducendo tramite youtube capite credo che non dobbiamo pensare che provare ansia faccia di noi delle persone errate delle persone sbagliate delle persone deboli ho sentito dire tante volte e beh io provo ansia perché sono una persona sbagliata perché sono un debole ma chi l'ha detto ma dove sta scritto dove c'è portatemi un trattato medico dove sta scritto che sei una persona errata che sei un debole se provi provi delle sensazioni che sono umane chiaramente il discorso è diverso perché tante volte mi si chiede io sto male come faccio a a a venirne fuori come faccio comunque a in qualche maniera a capire che cosa mi sta mi sta succedendo beh è per questo che esistono i professionisti tra l'altro se ne è parlato molto spesso anche a sproposito però dico se ne è parlato molto avete sentito di quel bonus psicologo che dopo mille peripezie è stato finalmente autorizzato e lasciatemi dire che è vergognoso pensare che si sia perso tanto tempo nel nel dar vita ad un ad un sostitio che può essere di aiuto a tante persone a tanta gente che necessita di stare bene che ha bisogno di parlare con un professionista che ha bisogno di far luce sui problemi che la vita ci pone perché ragazzi sì la vita ci pone spesse volte troppe volte tanti tanti problemi diciamo ci pone comunque tante tante soluzioni ecco che dobbiamo in qualche maniera anche riuscire in qualche modo a a poter a poter concretizzare già partendo dal principio e partendo dal fatto lo ripeto che al netto di tutto si può e si deve comunque rendersi consapevoli che c'è qualcosa che non va semplicemente un periodo difficile un periodo di stress ci può stare ci può stare ed è assolutamente normale ed è qui che dobbiamo intervenire intervenire noi credo che sia questo che fa la la differenza credo che sia esattamente questo e credo che già questo e credo che già questo possa possa assolutamente essere una prima svolta al netto di questo dobbiamo iniziare un percorso ma un percorso innanzitutto con noi stessi principalmente e anzitutto con noi stessi e poi il resto credo possa serenamente venire da sé possa venire da sé piano piano con con tanta fatica e anche con momenti di difficoltà me ne rendo conto però è fattibile dobbiamo crederci dobbiamo credere di potercela fare perché sì possiamo assolutamente e dobbiamo assolutamente farcela ma ripeto per una questione prevalente di rispetto verso noi stessi non fosse per altro soprattutto per questo e poi per tutto il resto insomma credo che davvero il resto venga venga da sé però diamoci la possibilità di migliorare diamoci la possibilità di diventare persone veramente migliori veramente con una importante speranza di cambiamento credo che possa davvero fare la differenza nel nostro vivere grazie per aver seguito questa diretta noi ci aggiorniamo tra poco con un altro appuntamento grazie a tutti voi